un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni notondo nel giardino dei frati minori cappuccini ecco vedete questo indirizzo di posta elettronica dove inviare la vostra storia come è entrato padre pio nella vostra vita raccontateci ecco quanto è importante padre pio nella vostra vita come sia come ha fatto ad esempio maria luisa che ci ha scritto dalla provincia di vicenza lei racconta che ha vissuto un'esperienza straordinaria che ha cambiato il corso della sua vita estate 2005 quando decide di trascorrere una vacanza con la sua famiglia degli amici a vieste qui vicino sul gargano un imprevisto porta il gruppo a cambiare i piani così maria luisa si trova ad un bivio solo nelle vicinanze di san giovanni rotondo ed emerge in lei questo desiderio di visitare il santuario questo desiderio che diventa irrefrenabile decide così di approfittare dell'occasione nonostante la tenuta estiva non consona per entrare nel santuario riesce a procurarsi un coprispalle quindi poi con il permesso racconta del vigilante si reca all'interno della chiesa in adorazione e poi ai piedi della tomba di padre pio in quel momento non sa ancora che sta per vivere una grande trasformazione la sera stessa proprio di ritorno in campeggio maria luisa riceve un email dal provveditorato agli studi di vicenza dopo 15 anni di precariato come insegnante le viene comunicata la sua insperata e inaspettata racconta in missione in ruolo e sopraffatta dall'emozione e il suo pensiero va subito proprio a lui a padre pio mi sentivo riempire il cuore di affetto e di gratitudine racconta maria luisa certa che l'intercessione di padre pio abbia giocato un ruolo fondamentale in questo evento da quel momento maria luisa affida a padre pio non solo la sua professione ma anche la sua famiglia il cammino spirituale dei suoi cari in momenti di preghiera intensa racconta di aver percepito questo delizioso profumo fiorito forse di rose gelsomino un segno un segno della presenza e della benevolenza di padre pio oggi a distanza di anni con gratitudine affetto vuole condividere questa storia augurandosi che ogni persona possa vivere un incontro simile con padre pio portatore di grazie cilessi